Allora, rispondiamo anche ai messaggi. Un messaggio in modo particolare richiedeva una risposta relativamente all'occupazione di persone residenti nel territorio per la realizzazione dei manufatti. Effettivamente si tratta di una società ibrida o spagnola piemontese, torinese. La promessa da parte del presidente Zaia al tempo era stata quella di comunque garantire che questa società avrebbe fatto il possibile per garantire posti di lavoro anche ai residenti. Noi però non abbiamo voce e titolo per poter dire se poi questo accadrà, è accaduto, è stato fatto. Queste sono parole dette, no Masette? Sì, in fase, al momento dell'inaugurazione con la posa della prima pietra c'era stato un richiamo abbastanza forte sia dal presidente Zaia che dal presidente Muraro. Anche Muraro lo ricordo, infatti non volevo sbagliarmi, mi sembrava anche Muraro avessi detto questo. Noi abbiamo analizzato altre dimensioni di questa infrastruttura. Ovvio che il telespettatore interessa l'aspetto anche occupazionale, giustamente soprattutto se si tratta di operatori del settore e della zona. Poi un altro messaggio diceva di non impattare nuovamente nel territorio con altre opere perché è già ingolfato quello che lei diceva, cioè realizziamo quest'opera per cercare di liberarlo, razionalizzarlo ma non fare speculazioni. Esatto, no, perché non abbiamo più bisogno di questo. Ma lì sta i comuni a un certo punto a non autorizzare? Ci saranno? C'è un patto? Sì, ci sta i comuni, c'è tutto quanto, ma credo ci voglia una regia un po' superiore per capire, non fare certe cose. Oggi non abbiamo tutto questo, il rischio già si vede in alcune situazioni oggi, vediamo nei giornali che c'è qualche spinta da fuori affinché magari cresca qualcos'altro. Io dico abbiamo anche un sacco di capannoni dismesse, di aree chiuse. Cerchiamo di recuperare quello che c'è da recuperare, possibilmente. Certo, sarebbe stata utile se funzionante da 15 anni fa, adesso si sta per costruire un enorme via fantasma perché le fabbriche chiudono tutte per tasse, che è quello un po' che si diceva. E allora passo a lei un po' la patata bollente cercando di dare anche una risposta. In questo contesto socio-economico particolare, dove abbiamo raggiunto un primato tristissimo per debito pubblico e per tassazione, cioè siamo ai vertici storici, un'opera del genere, quanto va a costituire un'opportunità per il futuro, come dire siamo pronti però per il rilancio dell'economia, quindi non stiamo con le mani in mani, non piangiamoci, quanto invece può andare economicamente a gravare e quindi non costituire un vero sbocco? Questa è un'analisi un po'... No, io partirei da un altro presupposto che è questo. In quell'area, allora, forse non sia ben chiaro la misura, cioè 95 km di superstrada in un territorio così lontano da qualsiasi asse autostradale, nemmeno l'autostrada Brebemi, che è la Brescio-Bergamo-Milano, coinvolge le stesse quantità di aziende, imprese, addetti, popolazione, eccetera. Quindi non è un lavoro da poco e nello stesso tempo questa parte di territorio si è abituata, gioco forza, a trovare le soluzioni per la viabilità, per la mobilità. in questi 40 anni senza far conto di questa... Quindi da un certo punto di vista noi andiamo semplicemente a supportare, da un certo punto di vista, a supportare, a togliere alcune criticità che ci sono. La pressione che c'è su quel territorio è altissima per la viabilità. Perché si attraversano i comuni? Perché si attraversano direttamente i comuni. Cioè i centri storici comunali, come avviene con la famosa chiede del Santo nella provincia di Padova. Assolutamente, e quello è un altro problema. Se uno, chiunque conosca o sia mai passato in quelle aree, l'idea di spostarsi da Montebelluna a Bassano del Grappe in un quarto d'ora è fantasia. Però sono i tempi che si avranno, il che ha un effetto importante per varie ragioni. Quindi io non affronterei il termine, l'analisi partendo dal presupposto che siamo in una situazione di crisi, adesso serve ancora. Serviva, serve e continuerà a servire, anche perché l'alternativa quale dovrebbe essere? Che questa parte di mondo artigiano, industriale, chiude? No, non voglio nemmeno pensarci a questo. Assolutamente, assolutamente. Proprio su questo fatto qua, che non serve, serve o non serve, vorrei fare un ragionamento anche di questo tipo qua. Il Veneto è la prima regione d'Italia per volume turistico, perché abbiamo il mare, le coste e i monti. Diciamo che la parte centrale non è molto trafficata dal turismo. Quindi su quest'asse qua, visto e considerato che siamo sotto il Grappa, colline asolane, montello, tutte zone della prima guerra mondiale, visto che tra qualche anno ci sarà anche il centenario, che si possa sviluppare un turismo di natura, magari culturale, e attraverso appunto quest'asse viario sviluppare anche nuova economia. Potrebbe servire anche a questo. Certo, in questo momento poi potrebbe essere effettivamente uno sbocco importante. Le contestazioni che poi ci sono state, i ricorsi, a parte che adesso è stato messo sotto legge appunto dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'opera, sono messe a tacere. Su che cosa vertevano? Interessi particolaristici di chi si vede spropriato a un proprio territorio? Perché sono stati anche comuni che hanno levato gli scudi in certo qual modo? Allora, mi permetto di dire questo. Io non ho voluto seguire le contestazioni, anche se sono rispettabilissime, perché credo che ognuno difenda i propri ideali, difenda il proprio territorio, da quella che può essere un'eventuale, definiamo, speculazione proprio del territorio da parte di altri. Dobbiamo ormai capire che interessi generali devono coprire tutti gli interessi di tipo particolaristico. So che le vertenze, per quanto riguarda gli espropri, mi sembra che ci sia un ritorno di tre volte superiore rispetto al normale, anche per non andare incontro a problemi di allungamento e ulteriore dei tempi. Per quanto riguarda altre cose, c'era di farla sopraelevata, in piano, in trincea, e quindi so anche che in questa fase qua molti comuni poi si sono accordati. Però noi, voglio dirlo, non siamo voluti entrare nei termini, nei modi e nelle discussioni di qual era il tracciato. Abbiamo voluto rimanere fuori da questo proprio per andare a identificare le strategie di sviluppo. Quindi le strategie di sviluppo ci sono, effettivamente le ravvisate. L'analisi che avete condotto, perché ovviamente è stata fatta non così per sentito dire o per quello che dicevano negli addetti lavori, ma si sono appoggiati al vostro studio, per cui per avere una indagine scientifica, diciamo così, in quello che può essere scientifica il tipo di analisi condotta. Su che cosa si è basata? Quindi vediamo anche i punti analizzati e gli aspetti che ne sono emersi. Allora, avevo anticipato, è un'infrastruttura molto permeabile. Ci sono 14 caselli distribuiti su questi 95. 14 sono tanti per un chilometraggio. In alcuni punti la distanza è nell'ordine di 5 chilometri, quindi è assolutamente permeabile. Ciascuno di questi punti è, come dire, caratterizzato da un'estrema accessibilità. Cioè significa che da ciascuno di questi 14 io arrivo rapidamente verso Verona, verso Bologna, verso Trieste, verso Udine, verso l'Austria, eccetera. Questa è la questione. Quindi, di fatto, ciascuno di questi punti qui esce da una situazione di fortissima perifericità, difficoltà ad essere raggiunto e entra di fatto in una rete lunga. Si interseca con la 27 e la 4, no? Si interseca con la 27, con la 4, con la Valdastico, e quindi della Valdastico consente di scendere. Adesso c'è la Valdastico Sud in realizzazione. A quel punto si interseca di nuovo con la Transpolesana, la Nogaramare. Quindi consente di arrivare davvero verso l'Emilia-Romagna, verso il sud d'Italia. Senza passare, tra l'altro, per il nodo di Padova. Anche questo è un dato importante. Quindi gli effetti, di fatto, si distribuiscono a raggera sul territorio. Ma il ragionamento importante è questo. Ciascuno di questi punti ha estrema accessibilità. Che cosa facciamo intorno a questi 14 caselli? In provincia di Treviso ce ne sono complessivamente 14 su tutto l'asse. Nella provincia di Treviso ce ne sono 19, considerando anche gli altri sugli altri asse. Come gestire queste aree qui? Come programmarle? Che cosa farle diventare? Ciascuno di questi caselli dovrà crescere? Dovrà diventare ciascuno di questi Padova Est? Ragionevolmente no. Alcuni continueranno a essere soltanto delle porte di accesso al territorio. Altri potranno crescere per evitare che ci sia poi dispersione, invece, sul territorio. Di altri, sviluppo frammezzato, eccetera. Però la questione è come governarlo, questo processo. Non può essere il singolo comune perché il singolo comune ha una visione. Non ha un'ottica di ampio respiro. E quindi da questo punto di vista qui serve un'azione di coordinamento che ragioni in un'ottica di corridoio. Selezionando, gerarchizzando e individuando dove effettivamente concentrare e creando quindi delle strutture, delle infrastrutture di qualità, anche per le imprese, certo. E non è un'operazione semplice, ma è necessaria. Perché altrimenti il rischio è o un corridoio unico, con uno scenario, un'immagine tipo Brescia-Bergamo, insomma, per capirci, oppure, peggio ancora, una situazione in cui tutte le vie di aduzione ai caselli si riempiono. E allora va governato questo processo per riuscire a capitalizzare, come si dice, cioè a prendere il meglio di questa opera. Assolutamente. Prego, dove intervenire? La regia superiore in cui parlavo prima è questa qua, appunto, perché se no non si cala negli errori o negli interessi del passato. Assolutamente, ma questo è fondamentale. L'ambiente, comunque no, che ambiente bisogna darlo, è fondamentale. L'ambiente ha destato le grandi polemiche per la TAV, per qualsiasi altra opera, e quindi che sia anche un corridoio verde, con una pianificazione di un certo tipo, è importante per il turismo anche. E' importante per il turismo, dopodiché molte parti del tracciato sono state fatte in trincea, non tutte, molte sono state fatte in trincea, a maggior ragione, se, come dire, nella realizzazione della strada si è guardato al suo inserimento nel paesaggio, a maggior ragione ha senso e bisogna programmare poi il territorio, avendo presente questo obiettivo. Assolutamente. Allora, adesso andiamo a vedere anche le attività produttive che si sono sviluppate attorno ai comuni, le famose aree artigianali, ogni comune ha la sua area artigianale. L'inflazione? Esatto, questa è stata un'inflazione. Una redistribuzione in un'ottica contraria, però in un momento come questo è anche ipotizzabile, e quindi riorganizzare il territorio è possibile, c'è la disponibilità, è ravvedibile anche questo, per cercare di creare invece che un territorio puntiforme poco piacevole, indubbiamente, perché come si è trasformato, resta solo l'area del Montello che è un polmone appetibile. E' il grappa. E' il grappa, esatto, è ben poca cosa, è ipotizzabile questo. Credo sia doveroso fare una riflessione su questo, anche perché, come dicevo prima, per andare a incorrere in altre speculazioni, visto che considerate che abbiamo perso tantissimo territorio, poi se vogliamo puntare a quello che dicevo, a un turismo sostenibile in qualche modo bisogna ripensare il territorio, riposizionarlo, dicevo prima. Però ci sono i particolarismi. Sì, i particolarismi sono questi che vanno scavalcati, per così dire. Perché dobbiamo capire che la provincia di Vicenza e la provincia di Treviso sono tra le prime province, una è la terza e l'altra è la sesta, a livello nazionale per quanto riguarda l'export. La Vicenza in modo particolare. La Vicenza è la terza in Italia, il Treviso è la sesta. Qui c'è un grande manifatturiero. Dobbiamo capire anche che il manifatturiero dà un terzo del prodotto interno all'ordo, non è che sia cosa da poco. Quindi è tutto quello che si tiene nell'economia, poi anche. Quindi una infrastruttura di questo genere, ripensare le aree produttive, ripensare anche il modo di fare impresa, dico io, l'ho più volte detto per altri concetti in questi giorni, che appunto abbiamo tantissimi predatori, abbiamo fatto la ricchezza del nostro territorio attraverso le nostre imprese, abbiamo portato la piena occupazione. Oggi, anche con la crisi, si potrebbe ripensare questo modello. Non dico che è stato negativo rispetto al passato, ma in qualche modo ci deve essere un'evoluzione, io dico. Visto che considerato che anche la terra a livello naturale si è evoluta nel corso dei miliardi di anni, in qualche modo il pensiero stesso dovremmo farlo anche noi come imprenditori. Quindi andare verso un modo diverso di fare impresa, visto che considerate le infrastrutture che oggi ci metteranno a disposizione, oggi parlo tra quando sono pronte, insomma ecco, ripensare questo non sarebbe male. Assolutamente. Andiamo in pubblicità e intanto ripensiamo a quanto abbiamo detto, se avete delle osservazioni da fare potete mandare sempre i vostri messaggi oppure chiamare. Allora, ritorniamo, vediamo un po' anche di concludere per chiarire bene gli aspetti che sono i principali. Fatta quest'opera, 2016, abbiamo risolto le principali problematiche o no? Perché si parlava di tanta progettualità in essere. Abbiamo risolto sicuramente degli importanti colli di bottiglia sul territorio, per quanto riguarda tutta l'area pedemontana e la sua accesso. Accesso, dicevo, verso ovest, verso l'area veronese, Milano, eccetera, in parte anche verso sud, sicuramente verso est, perché il collegamento, come dire, verso la 27, da qui verso Pordenone e poi, ricordiamo, si ragiona in Friuli su una prosecuzione da Pordenone verso il Valico di Tarvisio. Ecco, in quest'ottica qui si crea un'asse alto e quindi è un'opportunità di collegamento a livello internazionale per le imprese che agiscono sul territorio. Si risolve sgravando i piccoli centri che vengono attraversati adesso in maniera pesante da traffico di camion e autovetture. Si risolve tutte le questioni dell'area centrale veneta? No, non proprio, perché questo qui è un'asse comunque orizzontale che si muove da est a ovest. I nostri centri principali gravitano intorno a Padova, Venezia e quindi, come dire, un altro nodo che resta da gestire, affrontare e risolvere è quello dell'adduzione verso Padova e verso Venezia che al momento gravita sulla Statale del Santo e su tutte le altre vie improprie rispetto alla quantità di traffico. Questo è un problema strategico perché effettivamente è importante perché da Padova Padova vuol dire in sud Italia perché transiti attraverso, da Bologna vieni in su praticamente. Vuol dire anche quello, ma vuol dire anche Padova in sé nel senso che Padova e Venezia è un'area che, come dire, soprattutto nell'ultimo decennio abbiamo visto riprendere a crescere in maniera rilevante anche in termini di addetti, di mobilità, eccetera. Quindi, come dire, è una regione che richiede di essere connessa molto di più a questa e quindi in prospettiva anche arrivare verso Padova e verso Venezia sarà una domanda ancora presente. Il traffico pesante probabilmente si incanalerà lungo questa nuova infrastruttura ma la gente poi lavora, studia sul territorio e quindi deve muoversi. Assolutamente. Anche se poi battute, però dati alla mano, c'è sempre la tendenza a una minore mobilità per questione anche di costi, per cui lavoratori che non accettano posto di lavoro troppo lontano perché costi-benefici bisogna fare la solita valutazione perché se spostarsi con la macchina è un onere di non poco conto. Abbiamo avuto i tagli ai servizi, alla mobilità generale pubblica, tagli drammatici adesso poi verranno anche ufficializzati, mancano soldi e verranno tagliate anche linee ben precise per cui bisogna anche valutare il modo più agevole per raggiungere certe località ma pensare anche a una minore mobilità interna. Queste sono le prospettive che si avanzano in proiezione futura. Rispondendo un po' ai messaggi, uno un po' faceva riferimento. La sostanza era quella ma i soldi, ci sono soldi sufficienti per fare queste opere? Sono cose importanti? Perché forse chi ci ascolta non si rende ben conto che gli stanziamenti erano stati fatti per quell'opera, non è che possono essere utilizzati altrimenti se no si perdono, cioè semplicemente l'opera non si fa e vanno a finire da un'altra parte ma non certo qui, non restano qua in Veneto. Allora, so che io non voglio entrare in termini di questi concetti perché effettivamente non lo so, ma credo che sia stato predestinato dei soldi per quest'opera che è fatta in project financing, mi sembra, quindi va a pagarsi perché chi percorrerà questa strada dovrà pagare il ticket quindi è una sorta di autostrada. Comunque il cipre aveva già stanziato. Sì, il cipre aveva già stanziato. Quindi sotto questo aspetto non credo ci siano problemi, anzi deve essere tutto coperto perché si doveva pensare un'opera così, senza soldi, nei momenti in cui siamo oggi proprio non ha nessun senso. Vorrei dire qualcosa di più, visto che si parlava ormai della poca mobilità. Sarebbe da ripensare anche il trasporto su gomma, quindi qui non si è parlato di rotaia. Io volevo fargli la battuta su rotaia perché però... In qualche modo va ripensato anche questo. Quindi ci dobbiamo infrastrutturare in maniera tale da essere competitivi come aziende perché dicevo prima abbiamo un grande manifatturiero. Abbiamo oggi un manifatturiero invidiato a livello mondiale, di qualità. Nonostante siano partite molte aziende, nonostante tutte le difficoltà. Ma chi rimane qua punta ad alte qualità, ad alto di gamma. Quindi dobbiamo supportare tutto ciò che qui c'è e rimane, anzi svilupparlo. Perché penso, spero, passato questo momento poi ci sia anche un ritorno solidale a fare in qualche cosa in più. Vorrei aggiungere un'ultima cosa, visto che è considerato che il professor Feltrin prima diceva che questo è un asse parallelo alla quattro. Io direi che questo è il vero passante del Veneto, che va a superare anche il passante del Veneto cosiddetto finito qualche anno fa. Ecco, anche se quel passante lì è stato una boccata di respiro per quando dovevano raggiungere attraversare l'area. Sicuramente per l'attenzione del Veneto è stato fondamentale, ma taglia completamente. Quindi io lo definisco così e poi è tutto discutibile. Ovviamente dopo chi vive il territorio lo sente in modo diverso, da chi magari non converge costantemente nell'area. Private financing è un altro discorso, sono stati oggetto di polemiche o meno. È corretto o non corretto utilizzare soldi di privati per alimentare delle opere pubbliche alla luce di tutto quello che sta succedendo? Lo studio ha toccato anche questi aspetti? No, lo studio non ha toccato questi aspetti, ma c'è un'alternativa? Non lo so chi da lei. No, nel senso che non... Non c'è possibilità. O si fa così o non si fa niente. Questa è un'opera in cui il porto è nell'ordine dei 2 miliardi e 100 milioni. E già capiamo che o si fa in questi termini oppure no, assolutamente. Questa quindi è anche la risposta all'altro messaggio che era arrivato. Poi per quanto riguarda le opportunità occupazionali, quindi di lavoro per i residenti, purtroppo noi non possiamo dare la risposta. Speriamo naturalmente che ci siano viste la crisi del settore edile delle costruzioni e quindi le tante persone che per il momento non trovano occupazione. Grazie ai nostri ospiti, è finito il nostro appuntamento. Grazie a lei. Grazie ancora, ci ritroviamo alla solita ora alle 12.40. Arrivederci. Ben ritornati alla nostra consueta diretta. Parliamo di un'opera infrastrutturale di grande impatto e di grande importanza per il nostro territorio. Si tratta della Pedemontana Veneta, 195 chilometri che attraverseranno l'area nord, appunto Pedemontana, tra le province di Vicenza e di Treviso, nella zona da ovest verso est. Un asse viario importante si va a corregare nelle opere del famoso Corridoio 5 e costituisce una realizzazione che va da un lato ad impattare in un territorio, ma soprattutto a costituire quel nodo viario fondamentale per ricongiungere moltissimi comuni, sono veramente tanti, della provincia di Vicenza. Pensate, si parla di 385 mila vicentini residenti nel territorio coinvolto e altrettanti nel comune, nella provincia di Treviso, con circa 230 mila addetti nell'area manifatturiere, 172 mila trevigiani coinvolti. Numeri importanti. Un'opera dove ci sono degli insediamenti produttivi, manufatturieri strategici per il territorio e dove la percorrenza è estremamente lenta, articolata, difficoltosa. Chiunque si debba recare in quel territorio lo sa benissimo, viene un po' di ansia perché i tempi sono molto lenti, dovuti appunto a una viabilità che è stata strutturata non contestualmente alla creazione di queste fabbriche, di questi capannoni, di queste sedi operative, ma ovviamente in un periodo antecedente. Cerchiamo di porre rimedio con i tempi dovuti. Inizio dei lavori, posa prima pietra, 10 novembre 2011, termine dell'opera prevista 2016. Essendoci l'ingegnere Vernizzi, che già si è occupato del passante di mestri in qualità di commissario straordinario, che comunque coordinerà tutta l'opera, si pensa che la tempistica dovrebbe essere tenuta. È stato bloccato anche la sospensiva di un ricorso, un paio di ricorsi in essere. Vediamo cosa succederà e soprattutto la valenza, se ci sarà o meno per questo territorio. Per parlare di questo vi presento i nostri protagonisti odierni, è ben arrivato al dottor Sergio Masett, che è direttore di ricerca dello studio Tolomeo, studi e ricerche, nonché curatore di questa ricerca, che riguarda gli effetti della realizzazione dell'opera. È ben arrivato a Stefano Zanatta, presidente e confrattigianato Asolo Montebelluna, che è tra i committenti di questa ricerca, cioè interessati come artigiani, insieme alla confrattigianato di Treviso, a capire che cosa succederà. Poi avete avuto il patrocinio della Regione del Veneto, e il supporto di alcune banche, che ugualmente vedono con interesse quest'opera. Buongiorno. Ben arrivata anche a lei. Prima di incominciare vediamo questi contributi, cerchiamo di capirci qualche cosa in più. Seguiamo insieme le interviste. La prima idea di Pedemontana risale a qualcosa come 50 anni fa, 1964, CRPE Veneto, un comitato regionale di programmazione fatto in tutte le regioni italiane. Allora era pensata come una strada di collegamento tra la provincia di Vicenza e di Treviso e un modo per, in qualche misura, abbattere un'area marginale appunto Pedemontana. Oggi in realtà attraverso una delle aree più popolate e industrializzate d'Italia, valte pensare che in questi 40 anni, dal 61 ad oggi, i comuni della Pedemontana sono cresciuti più del 66% di popolazione, contro una media veneta del 20%. È una strada che è stata progettata pensando alla possibilità di rigenerare il paesaggio e diciamo le premesse sono state l'analisi del sito come in una sorta di radiografia. La geologia ha suggerito di interpretare questa particolare giascitura naturale come appunto frutto della valle, dell'acqua che scorre, dei coni creati dai fiumi con i residui solidi e quindi a questa specie di contrapunto che si viene a creare ai piedi delle montagne. Io la collocherei nella situazione storica del Veneto che accanto ad uno sviluppo da tutti sottolineato del fenomeno imprenditoriale del nord-est che sta vivendo anche lui questo momento di crisi, si accompagna a una carenza del sistema infrastrutturale, soprattutto nel momento in cui dalle singole situazioni imprenditoriali, dalle fabbriche di piccole e media grandezza, si impiegano molto tempo per raggiungere il sistema autostradale nazionale. Oggi in realtà la Pedermontana assume sì il significato di collegamento interno, perché è ovvio, si pensi che inseriscono un numero di caselli superiore alla decina, praticamente uno in 5-6 chilometri, ma soprattutto diventa un secondo asse di collegamento parallelo alla 4 e quando sarà terminata la Pedermontana friulana collegherà Vicenza, Bassano, Conegliano, Pordenone, Udine, su nelle grandi direttrici del nord-Europa. Quindi diventerà un secondo asse rilevante di trasporto il tico alternativo in parte alla 4. Eccoci allora, Sergio Mazzetta, intanto correggo perché ho detto 195 sono 95 chilometri, giustamente mi correggeva adesso un lapsus, sarebbe tutta un'altra percorrenza. Allora, un'opera indifferibile, urgente, importante, strategica in questo preciso momento. Spieghiamo un po' ai nostri telespettatori anche un excursus per collocarla bene, perché per realizzare un'opera del genere non è che lo si fa dall'oggi per il domani, soprattutto in Italia, no? No, non lo si fa dall'oggi al domani, come era stato, abbiamo visto nel servizio adesso andato in onda, ha avuto una gestione lunga, perché davvero era già disegnata sostanzialmente 40 anni fa. 40 anni fa? Assolutamente, cioè nel piano di sviluppo economico regionale del 66 era già disegnato quest'asse come asse autostradale. Forse possiamo inquadrarlo un pochino anche geograficamente per avere un'idea. sostanzialmente la piede montana è una superstrada, nel senso che prevede due corsie per senso di marcia, e si stacca a ovest, poco prima di Vicenza. Magari possiamo vedere anche delle immagini, se dalla regia possiamo metterle in onda, così vediamo. sale verso nord, attraversa l'area dell'alto astico, insomma del Chiampo, Schio, Tiene, Valdagno, si muove verso est tenendosi abbastanza alta, passa a ridosso proprio di Bassano del Grappa, in quel punto si interseca con la Val Sugana che scende da nord, proseguendo verso est ulteriormente viene a trovarsi un pochino sopra Castelfranco, tange di nuovo Montebelluna e poi incrocia quindi la Feltrina, che è la statale che scende da Feltri appunto, e si innesta sulla A27. Quindi parte dalla A4, incrocia la Valdastico, la Valdastico Nord, tocca la A27 all'altezza di Spresiano. Quindi in questo senso si può parlare di un'articolazione alta dell'autostrada A4, nel senso che si muove restando in alto nella stessa direttrice. Quindi sarà una specie, come vediamo anche da questa simulazione, di autostrada, sono previsti anche dei pedaggi, dei pagamenti, poi le strategie residenti e non residenti, insomma sono quelle cose che... Sì, nel senso che è assolutamente una rete veloce e lunga, quindi da questo punto di vista qui funziona, funziona per mettere in connessione punti distanti, la lunghezza sono 100 chilometri, ma nel suo percorso di, come dire, progettuale anche, ha risposto, ha voluto rispondere anche a delle esigenze di permeabilità del territorio, cioè ci sono tanti caselli, quindi serve per collegare anche localmente diversi punti. Quella è un'area che soffre pesantemente da un punto di vista di tempi di percorrenza e di sicurezza, e quindi di qualità anche del trasporto e del, come dire, del rapporto con il territorio, gli attraversamenti urbani, eccetera, e quindi risponde anche a una funzione di alleggerimento della mobilità interna all'area. Assolutamente. Dopo passo anche la parola al rappresentante degli artigiani, categorie produttive. Un territorio che abbiamo visto non solo densamente popolato, ma anche morfologicamente caratterizzato, dal punto di vista turistico, lo si vuole che abbia una resa anche maggiore, un ecosistema particolare. Va a impattare in questo senso? Ma, allora, questo è un discorso delicato e articolato. Parte della difficoltà della progettazione sicuramente di quest'opera è stata anche dovuta a un'attività di mediazione con il territorio e con le diverse sensibilità, anche relative all'impatto paesaggistico e ambientale. Certo, attraverso delle aree di pregio, delle aree di pregio anche da un punto di vista di patrimonio culturale, di opportunità turistica, di tipicità del territorio. E, come dire, la capacità di valorizzare e utilizzare anche queste infrastrutture in quest'ottica è una delle sfide che vanno affrontate. Che vanno infatti affrontate. La cosa più particolare, qui stiamo vedendo appunto delle immagini percorrendo virtualmente questa nuova opera, non è stata ancora realizzata, precisiamo, siamo un po' all'inizio dei lavori, un cantiere che poi sarà un villaggio vero e proprio dove è stato collocato, che dovrebbe agevolare le attività produttive che nel contempo, da 30 anni, 40 anni fa, non c'era nulla, ma diciamo gli ultimi dieci anni sono fiorite, sbocciate, proliferate, hanno fatto un po' quella straricchezza del nord-est. Allo stato attuale, contestualmente, in questo periodo, in cui poi oggi è la giornata, oggi questa è la giornata della tassazione in assoluta, dove le nostre povere aziende sono messe veramente in ginocchio, è un'opera ancora strategica? Allora, vorrei fare un passo indietro. Noi siamo una società di categoria, ci chiamiamo Confruttigionato Asolo, Montebelluna, rappresentiamo 25 comuni del territorio, 3 mila aziende. Che non è poca cosa. Che non è poca cosa, diciamo, notevole bacino d'utenza. Abbiamo un'impresa ogni 8-9 abitanti, quindi imprenditoria diffusa, con tutti i problemi che oggi ci sono per quanto riguarda la crisi. E noi, Confruttigionato Asolo-Montebelluna, due anni fa eravamo due associazioni diverse, due anni e mezzo, una di Asolo e una di Montebelluna. Ci siamo messi assieme, ci siamo fusi. Nel lato della fusione, visto e considerato che c'era questa importantissima infrastruttura che doveva partire, abbiamo pensato di provare a fare una ricerca su quello che poteva essere l'impatto da qua a 15-20 anni. Quindi non un impatto nel presente, ma un impatto da qui al futuro. Una qualche cosa che credo non sia mai stato fatto da nessuna altra parte, con nessuna altra infrastruttura. E per fare questo, naturalmente, abbiamo interessato la Confruttigionato di Vicenza, visto che è la nostra consorella che copre l'area geografica vicentina. Abbiamo, naturalmente, chiesto allo studio, a Toromeo, qui il rappresentante del dottor Maset, appunto ci ha spiegato, lo studio, abbiamo, assieme a Veneto Strade, perché abbiamo coinvolto anche loro, visto e considerato che sono loro che devono fare la strada, tra virgolette, e Unicredit Banca, visto che c'è una spesa anche per fare la ricerca, Unicredit Banca si è detta disponibilissima, anche perché anche loro vogliono capire come potevano essere le dinamiche del territorio per il futuro, credo che sia interesse di tutti, e per capire, appunto, l'impatto infrastrutturale che questa superstrada poteva avere, vantaggi economici del futuro, e via dicendo, abbiamo accennato anche prima che c'è un grosso disordine urbanistico nel nostro territorio, perché basta uscire un'ora e mezza da di strada, diciamo prima da Toromeo, siamo su un mondo completamente diverso, quindi bisogna risistemare un attimo questo disordine, io credo, e spero che attraverso questa infrastruttura si possa iniziare a fare questo, che non deve servire per altre speculazioni, se no torniamo appunto a capo. Bravissimo, questa è una cosa molto importante, ecco, su questo aspetto io voglio anche tornare, poi cerchiamo di rispondere anche ai messaggi che sono arrivati, non poi favorire altre speculazioni del territorio, perché di spazio già occupato ce n'è, è inutile andare, ci sono aree che possono essere interessate di una rivalorizzazione urbanistica o di altro genere, quindi non andare oltre quello che si è arrivato, e di fatti specie in considerazione ce ne sono parecchie, non solo nel territorio trevigiano, ma anche purtroppo andando in provincia di Venezia. Andiamo in pubblicità a pochi secondi, poi ritorniamo con voi.